buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi 28 settembre parleremo di nuovo reclutamento e le novità più rilevanti delle della legge scaturita dal decreto legge 36 del 30 aprile 2022 prima domanda quale sarà la tipologia di prova scritta dei futuri concorsi a cattedra è una domanda e diciamo che ci fanno in tanti e che merita una risposta ben precisa il decreto legge 36 del 30 aprile 22 poi convertito in legge a fine giugno 2022 all'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine grado quindi scuola dell'infanzia scuola primaria e secondaria primo e secondo grado per posti comuni e posti di sostegno che erano state introdotte dal decreto legge 73 2021 cosiddetto sostegni bis la principale modifica è diretta a prevedere che la prova scritta sia articolata in quesiti a risposta aperta in luogo di una prova strutturata consentita fino al 31 dicembre 2024 dal decreto legge dunque dopo il 31 dicembre 2024 i concorsi che saranno di frequenza annuale dovranno essere con quesiti a risposta aperta domanda numero 2 la prova orale dei concorsi a cattedra avrà delle novità previste per legge ebbene nella prova orale dei concorsi a cattedra si dovranno accertare oltre alle conoscenze disciplinari dunque di ogni singola disciplina di ogni singola classe di concorso le competenze didattiche nonché l'abilità all'insegnamento anche attraverso un test specifico questa è la particolare novità domanda numero 3 cosa si intende per formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado bene la formazione iniziale soprattutto questo va definito per i neolaureati costituisce requisito per partecipare ai concorsi a cattedra ed è articolata in un percorso universitario o accademico di tipo abilitante tale percorso corrisponde a non meno di 60 crediti formativi universitari così chiamati cfu o accademici cfa deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno in diretto almeno pari a 20 crediti formativi e concludersi con una prova finale articolata in una verifica scritta e una lezione simulata speriamo che le risposte a queste importantissime domande che riguardano diciamo tutti coloro che si vogliono approcciare al mondo della scuola e che vogliono provare a fare un concorso a cattedra speriamo appunto che le risposte siano molto utili un saluto a tutti i nostri telespettatori e alla prossima arrivederci grazie a tutti